Arrestato per tentato omicidio della convivente è accaduto a Nardò la sera del 9 dicembre scorso quando l'uomo ha cosparso la compagna di alcol e le ha dato fuoco con un accendino. Si tratta di un incidente, avrebbe invocato al telefono chiamando il 118, realizzando troppo tardi che la situazione gli era sfuggita di mano. La donna, una 52enne originaria di Neviano, ha trovato la forza di raccontare quello che era realmente successo dal letto del centro Grandi Ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove ora ricoverata ancora in prognosi riservata. Gli investigatori, d'accordo con i medici, hanno raccolto la testimonianza della vittima, una storia fatta di maltrattamenti continui, soprusi, liti. Così, all'alba di questa mattina, quando ogni pezzo della vicenda era stato messo al suo posto, sono scattate le manette per Alberto Antico, 42enne di Nardò. Grazie a tutti.